Non è arrivata alcuna comunicazione scritta né da parte dei dirigenti né tanto meno dai genitori, quindi capisco bene il sentimento di voler fare chiarezza lì dove ci fossero delle criticità, ma devo dire che al momento nulla è pervenuto agli uffici comunali. Essendo mamma di una bimba di 4 anni che frequenta un istituto dove viene erogato il servizio di mensa, alcune volte mi sono trovata ad affrontare delle discussioni del tutto informali e lì dove ho avuto queste segnalazioni appunto di carattere informale, ho avvisato insomma i servizi competenti e di conseguenza anche il titolare di colui il quale svolge il servizio mensa e devo dire che immediatamente ho avuto un riscontro positivo, quindi le criticità che sono venute fuori, ripeto, in maniera informale sono state immediatamente sistemate e riprese. Noi abbiamo appunto delle cucine che vengono utilizzate, delle apparecchiature che vengono utilizzate nella preparazione dei passi per celiaci, quindi seguono un iter diverso rispetto agli altri passi, così come giustamente ci impone il capitolato di spesa. Nella maniera più assoluta siamo qui proprio per monitorare costantemente e diciamo porci nei confronti di questo come di qualsiasi altro servizio nell'ottica di un miglioramento continuo, quindi fondamentalmente noi siamo aperti a ricevere le segnalazioni e a trasformarle, coloro ce ne fosse poi contezza documentale, in atti che possono appunto essere pronti a sistemare le situazioni di criticità.